L'Otus Evora 400 è la Lotus di serie più veloce di sempre. Rispetto alle Evora che tutti conosciamo, cambia addirittura il 60% della componentistica. Il V6 3.5 va da 0 a 100 in 4.1 secondi e raggiunge la velocità di 300 km orari. Veramente high performance, senza dimenticare che è una Lotus, quindi mantiene il suo handling da go-kart ma con prestazioni da supercar.